Questa impresa che era autorizzata a effettuare il recupero dei rifiuti per trasformarli in materia prima e secondaria in realtà era completamente priva delle attrezzature necessarie per svolgere questo incarico per cui l'unico modo per impedire che continuasse a svolgere un'attività illecita era quello di interdirgli l'esercizio di questa attività. La contaminazione dei territori vicino a dei frutteti, comunque le colture che poi vanno sulla tavola delle persone? Questo è un altro argomento che abbiamo utilizzato per fare la richiesta di misura cautelare al GIP che il GIP ha condiviso. Abbiamo appunto manifestato il pericolo che uno spandimento incontrollato di questi rifiuti nelle campagne di Brindisi potesse inquinare la falda e determinare danno alle culture e quindi entrare nella catena alimentare dell'uomo.